Bella raga, siamo tornati con la serie di Black Ops e non voglio perdere altro tempo e incominciamo subito come vedete mi sono cambiato il cecchino così che spero di fare uccisioni a meno che non ci siano quelli invisibili ovviamente dai tutti contro tutti vedranno concentratevi sulla missione cazzè chi spara carcisti nemico rilevato in zona carcisti nemico rilevato in zona ma da dove cacchio viene c'è una cosa allucinante carcisti nemico rilevato in zona guarda che culo ma vaffanculo da promettere anche che è iniziata dopo questa partita comunque va bene lo stesso tanto basta che vi divertite voi e mi raccomando lasciate mi piace mi raccomando lasciate mi piace guarda che vi è iniziata dai veloce ragazzi non fatti cipollotti dai cazzo K47 Sì, è la prima arriva a Galla la seconda aereo spia nemico in arrivo ma dai che cazzo fungibanana B approvvigionamenti per i nemici in arrivo bombardamento Nafal nemico in avvicinamento ma vaffambrosio ma non è morto nemmeno una volta cioè non mi dire che è invisibile non mi dire che è invisibile un nemico diretto verso di voi mamma mia però questi cazzi e per la prima volta lo uccide dai che cazzo ah 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 non l'ho visto sono cioè poi quanto uno si ammazza muore sempre e così purtroppo aereo, spie, enemico, sopra di voi bombardamento naparo, amicinico, in avvicinamento sono rusa eh, ci stiamo avvicinando eh sì dai e c'è nessuno, ma che cazzo attenti, registi, nemico, individuato attenti, registi, nemico, individuato l'abbiamo capito ma che cazzo è non è ribalza no si si te bastarde caino no però siamo primi siamo primi baggiami baggiami che cazzo c'è attenti registi, nemico, individuato no 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 suo oteies e aereo spia nemico in arrivo dai ragioniamo così approvvigio una vittima di nemico in arrivo ma se sono a terra ma porca troia e stai ancora col cecchino bello ma vaffanculo questo dici a sette uccisioni di merda bastardo di giallo 152 in unico in avvicinamento concentrazione assoluta bastardo e si ti ho visto bello 152 in unico in unico in unico in unico in unico ma come che altro ha fatto beh io non so sto di giallo e a che era babubabu ok recuperato il tempo è quasi scaduto e che cazzo sto di giallo a bocca e di sabb ma vaffanculo mi sono bloccato e che cazzo e che cazzo e vaffanculo al terzo costo ok raga penso che vi siate divertiti e alla prossima grazie 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 grazie